Ciao sono Dario di Alternativa Linux. Linux Mint 20.3 è disponibile e raccoglie il lavoro del team degli ultimi 6 mesi. Puoi aggiornare da versione 20 e successivi o scaricare il file e installarlo rapidamente. Avrai aggiornamenti fino al 2025. Ecco come si presenta Linux Mint 20.3 Cinnamon, le novità e la mia esperienza d'uso dal 15 dicembre. Non ripeto quanto documentato in estate con l'uscita di Linux Mint 20.2 e ti rimando alla mia videorecensione per conoscere le novità più rilevanti di Linux Mint nel 2021. Avevo installato la versione beta il 15 dicembre e ho usato il computer per lavoro per tante ore al giorno senza alcun problema. Di fatto la mia beta si è aggiornata completamente il 3 gennaio, qualche giorno prima dell'annuncio del rinascio della versione finale. Nel portatile avevo Linux Mint 20.2 ed ho effettuato l'aggiornamento previsto. Ho infine scaricato e reinstallato da capo Linux Mint 20.3 Cinnamon nel computer fisso. L'installazione ha richiesto 5 minuti. Impostati mirror locali, ho applicato gli aggiornamenti, installato con un comando tutti gli altri programmi e riavviato. Il tutto in meno di 20 minuti. Farsi un'idea dell'ambiente desktop Cinnamon, delle sue caratteristiche attuali senza ricorrere direttamente a Linux Mint che lo sviluppa, non è possibile. Almeno in questo momento. La versione più recente stabile che dovresti poter installare in una distribuzione GNU Linux diversa da Linux Mint ad oggi mi risulta essere la 4.8, rilasciata ben prima di giugno 2020 quando con Linux Mint 20 la versione 5 di Cinnamon e del suo file manager Nemo veniva riscritta da zero con un differente linguaggio, con benefici immediati per tutti i suoi utenti. Da Linux Mint 18, 19 in poi si verificavano crash dell'ambiente desktop Cinnamon e il file manager non era molto reattivo con file grandi, va detto. Ma anche che poi, specie a me, da Linux Mint 20 in poi non è più successo. Il metodo per la scansione e creazione di anteprime di file multimediali è ora ottimo e antepone la scansione dei contenuti delle cartelle alla realizzazione delle anteprime. Un nuovo meccanismo introdotto con Mint 20.2 consente di gestire al meglio e limitare il ricorso alla memoria RAM da parte del suo desktop. Il file manager ha un motore di ricerca rinnovato e trova risultati anche in base al testo contenuto e non solo al titolo del file. Può integrare Dropbox, Google Drive e unità di rete. Quello che non cambia rispetto alle versioni precedenti di Linux Mint 20 è la base Ubuntu 20.04 LTS, cioè con supporto a lungo termine. Linux Mint 20.3 è compatibile solo con architetture a 64 bit. Il suo kernel è il 5.4 LTS. Tutte le versioni 20 e successive riceveranno aggiornamenti fino al 2025. Non cambiano i requisiti di sistema, uniformi tra tutte le edizioni. Sono sempre consigliati più di 2 GB di memoria RAM e un centinaio di GB di spazio su disco. Le prime novità che balzano all'occhio di un utente abituale di Linux Mint dopo l'installazione di Linux Mint 20.3 riguardano l'aspetto delle finestre, che prevedono bordi superiori più arrotondati e pulsanti di controllo più grandi, definiti ed intuitivi. Anche i cosiddetti accenti di colore e i colori complementari di un tema prevedono, specie nel file manager Nemo, un grigio più chiaro nel riquadro laterale. Anche nei temi scuri si nota la differente colorazione del riquadro laterale. Quella che secondo me è la più grande novità di Cinnamon 5.2.3 rilasciato con Linux Mint 20.3 riguarda l'integrazione della visualizzazione di eventi da molteplici calendari dall'interno dell'applet orologio. Come già chiarito, le applet sono piccole applicazioni accessibili dalla parte destra del pannello, cioè la barra, e consentono la consultazione di informazioni e l'accesso a funzioni di uso frequente come connettività, stampanti, audio, periferiche USB e altre. Gli eventi nella rinnovata applet orologio usano il medesimo colore del calendario cui appartengono in modo da renderne più facile la consultazione. La applet è in grado di sincronizzare gli eventi con molteplici calendari e applicazioni online. Per esempio, se già usi il calendario GNOME di Linux Mint, questo funziona immediatamente. Se usi Google Calendar, connetti l'account a Gmail in account online e funzionerà subito. Se usi Thunderbird, scarichi un addon per la sincronizzazione e anche questo funzionerà. Puoi aggiungere al calendario locale gli eventi salvati in Google Calendar, Microsoft Exchange ed altri. Dalla applet puoi anche richiamare la creazione di un nuovo evento. Hypnotics, l'applicazione per la riproduzione di stream M3U, che di fatto consente la visione in chiaro di migliaia di canali TV da tutto il mondo, riceve alcune migliorie. Nuove icone, un nuovo tema scuro e soprattutto l'integrazione di un motore di ricerca per isolare rapidamente canali dai lunghi elenchi disponibili. Hypnotics è rilasciato con un solo fornitore di contenuti integrato, ma io ne aggiungo altri a partire dalla pagina principale del programma cliccando sull'icona a forma di TV. Nel mio manuale d'uso di Linux Mint nel blog parlo di Hypnotics e dell'aggiunta di contenuti gratuiti in chiaro. Metto il link ai miei provider anche nella descrizione del video. Con Linux Mint 20.3.1 viene aggiunto un programma appositamente sviluppato per Linux Mint, Thingy, che prende il nome libreria nella versione italiana. Di fatto si tratta di un centro raccolta dei file multimediali aperti di recente. Documenti Office, PDF, file di testo, manga. Oltre a rappresentare un punto di rapido accesso ai documenti aperti di recente, Thingy tiene traccia dei progressi di lettura per ogni documento. Nel corso del 2021 Linux Mint ha sostituito l'applicazione per la gestione di note passando a Sticky Notes. Con l'aggiornamento che si accompagna a Linux Mint 20.3 Sticky prevede una gestione migliorata delle note che possono essere mantenute sul desktop dopo la chiusura della finestra di gestione. Anche l'applet delle note è migliorata. Con un clic attivi e disattivi la visibilità delle note sul desktop. Cliccando con il pulsante centrale si attiva e disattiva il gestore di note. Quest'ultimo adesso integra un motore di ricerca per isolare rapidamente, tra tante, una nota in base al contenuto. Le note possono essere personalizzate in colore, dimensione, posizione e possono essere assegnate diverse opzioni di formattazione ai testi. Linux Mint 20.3.1 è rilasciata con la versione 3.21.8 del pacchetto HP Lip, che consente l'integrazione e installazione immediata di stampanti multifunzione HP. Ma anche i meccanismi di stampa e scansione senza driver sono state migliorate, ampliando di fatto la compatibilità hardware per queste esigenze. Altra novità coinvolge XReader, il visualizzatore documenti predefinito di Linux Mint, che supporta adesso anche i formati manga e accorgimenti specifici per la gestualità legate alla lettura di questi formati. Ma anche altre cosiddette XApps, le applicazioni specifiche di Linux Mint, tra cui l'editor di testo, i visualizzatori di documenti e immagini, Pix, il programma per la gestione e modifica di foto, ricevono ottimizzazioni e miglioramenti che sono elencati punto dopo punto nel post sulle novità di Linux Mint 20.3.1 cinnamon nel blog ufficiale. Se già usi Linux Mint 20, 20.1 o 20.2 avrai già ricevuto segnalazione di un aggiornamento per il gestore aggiornamenti stesso. Una volta applicato, dal menu modifica, trovi l'opzione per l'aggiornamento del sistema operativo alla nuova versione. Anche l'icona dei rapporti di sistema ti avviserà presto della possibilità di aggiornare. Con le tutte verifiche preventive sui problemi noti. Con tutti i miei dati già copiati altrove, ho provveduto ad eseguire l'aggiornamento. Alcuni cicli di scaricamento dati e installazione iniettano le novità nel tuo sistema e modificano il reposito ribase, che passa a quello di una. Il tutto in pochi minuti. Chiudi le finestre di aggiornamento e attendi l'emotico nella conferma della possibilità di riavviare il PC con il nuovo sistema operativo. Posso confermare che al successivo riavvio, dopo l'installazione, nessuno dei programmi da me precedentemente installati ed estranei all'installazione di base di Linux Mint ha subito alcuna conseguenza. Ci sono tutti. Parlo sia dei programmi installati da repository o flatpack che di quelli installati tramite PPA o repository aggiuntivi. Insomma, nessun problema. Linux Mint è un sistema operativo aggiornato ogni circa 6 mesi da oltre 15 anni ed è perfetto per i computer che erano dotati di Windows 7. E va ancora meglio, ovviamente, su computer più recenti. Lo scopo di Linux Mint è migliorare le proprie performance e la velocità con gli aggiornamenti successivi, non il contrario come avviene per spingerti a cambiare computer e alimentare il mercato hardware. Però è una lotta dura. Compri un computer e ci trovi un sistema operativo già pronto. Passare a Linux per installare una distribuzione richiede di mettere mano al BIOS o UEFI della scheda madre, per avviare un supporto USB per ordinare sistemi operativi se vuoi far coesistere Windows e Linux e purtroppo questo rappresenta un grande scoglio. Passare a Linux ti consente però di prendere dimestichezza con programmi di altissimo profilo e guadagnare tante libertà su tantissimi fronti. Se impari a usarli poi non dipendi più neppure da una distro o da un'altra perché i programmi sono i medesimi e abbracciano sempre gli standard. Nella guida del blog e dalla home del canale YouTube trovi tutorial per installare e configurare Linux Mint. Quanto ad un mio testo su Linux Mint, cui ho accennato nel video su Linux Mint 20.2, non era pronto, non era più tempestivo e non è uscito a fine estate come previsto. Ma ho cominciato a scriverlo per Linux Mint 19.1, quindi questo significa che sarà il risultato di un paio di anni di lavoro e magari sarà solo il primo di una collana da aggiornare nel tempo. Sto infatti lavorando per aggiornarne i contenuti e pubblicare tre differenti ebook su Linux Mint 20.3 e non mancherò certo di fornire adeguate informazioni sui contenuti e sulla disponibilità integrandole anche nella descrizione del video. Intanto grazie per il tuo tempo, viva Linux e anche Mint in particolare. Ciao! Grazie a tutti!